e bello ragazzi qui è tetanato chi parla e oggi siamo tornati su g3 5 perché nello scorso video vi avevo detto che se arriviamo a 5 like facevo delle gare con erode in 89 infatti siamo con lui avremo 2 gare e chi vincerà vincerà speriamo di vincere noi però vabbè non so se sono gare semplici o difficili ma erano valutate 64 65% quindi non so vabbè dai vedremo un po' chi vincerà attenzione si citta attenzione si citta si citta via di qua comunque devo parlare a bassa voce perché c'è praticamente è successo un fatto incredibile c'è veramente non posso dire niente per questo devo parlare a bassa voce ok vai così ci siamo no oh no 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 ok vai ci siamo ti prego arrivaci ok ci siamo via di qua dai impegniamo qui impegniamo qui impegniamo ok che ci siamo non cadere no 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 attenzione attenzione sto fiammessi di merda madonna ogni volta che faccio un video attenzione no sta sta più avanti cazzo arrivaci vai di qua di qua corri 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 dai dai impegnato 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 impegno impegno ok l'ho preso vai via 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 via, no mi sa che abbiamo perso per forza e il traguardoimiento è già qua, vabbè la prima l'abbiamo persa ma possiamo farci Eccoci qui nella seconda gara Il tempo che metto un attimo le impostazioni E poi avvio Che qua Sapete che io detesto la radio Cioè la levo sempre Color crew Dai avviamo Vediamo un po' se questa gara Sarà un po' più difficile di prima Questa era valutata 64% Dai un po' più di difficoltà Cioè prima Era valutata 65% ma era una merda Leviamo la radio Attenzione noi vediamo le scorciatoie Attenzione Noi saltiamo come canguri Malefici Canguro vai canguro vai Attenzione eh Radio 89 è primo Bellazzo lo supera subito Attenzione Via così via 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 Non ti far prendere Nuzz Non ti far prendere Nuzz Iiii Nooo Che se cazzo Se n'era accorto Via 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 Sperate di merda Ah ma l'ho preso? Ah ok A posto Via Di qua Piano 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 Oh nooo Oh nooo Attenzione Radio 89 Basta Vai piano che quasi cade di nuovo come pesci Via 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 ok Di qui Ok di là E vai così Vai 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 stiamo facendo Vai che ci stiamo riuscendo Ok siamo primi ragazzi Siamo primi Siamo fottutamente primi Vai vai Devo muovermi Devo muovermi Se non devo farmi a capire da erodeon vai 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 via 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 ok 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 via di qua c'è il traguardo vedo vabbè via di qua così via attenzione sono un idiota via gira subito gira 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 perché mi devo complicare la vita invece di responare ecco infatti spera che voglio provare una cosa se ci riesco lasciate un like comunque ragazzi a 5 like prometto che nel prossimo episodio sempre con erodeon 89 faremo gli incarichi del boss perché io ho più di un milione di dollari dai siamo ancora primi erodeon non sta dietro attenzione via 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 attenzione che qui è bastardo no 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 di nuovo dai ok calmo calma vabbè sta bicicletta di merda dai 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 non voglio ma non capisco perché non ci riesco più c'è cavolo è semplice dai dai è una cavola è una cavolata what the fuck cioè non ci riesco più incredibile ecco l'esempio ricuperà perché non ci riesco perché Vai No ti detesto erodo Ti detesto Guarda che lui ce la fa Giustamente Ma dai non è possibile Guarda Come perdere delle partite Dai Non è possi Non è possibile cazzo Cioè non è possi Oh vuoi salire No vabbè ma che sfortuna Non è possibile giocare così Due gare perse Non so come Vabbè ragazzi spero che Questo video vi sia piaciuto L'erodo in 89 ha vinto perché Cioè io non sono molto bravo a guidare BMX lui invece È un mostro diciamo così Praticamente Cioè ha vinto lui quindi ragazzi Arriviamo a 5 like se volete gli incarichi Del boss E noi lleniamo al prossimo Aspetta Sì 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 Grazie a tutti.